ciao a tutti e ben ritrovati sul canale del garante in questo nuovo video vi mostro un software gratuito della WURT che potete scaricare tranquillamente da internet installare e con il quale possiamo fare un sacco di cose io lo uso principalmente per le connessioni in legno vi farò vedere quella parte ma ci sono anche altri utilizzi che si possono fare appunto utilizzando questo software gratuito vi ricordo che se poi il video vi piace lasciatemi un like un commento oppure iscrivetevi al canale cominciamo quindi con andare a cercare questo software appunto in maniera molto semplice WURT software ed è questo link qua configuratori software di progettazione WURT Italia ecco vi chiederà magari di accettare i cookie il software in questione vedete non è solamente uno ci sono più software quello che vi voglio mostrare oggi è questo è questo qui di WURT technical software 2 carpenteria legno poi come potete vedere ci sono anche altri tipi di software sempre della WURT ma oggi andiamo ad approfondire questo quindi io richiedo il download del software chiaramente mi chiede di indicare questi campi qui che ora non sto a compilarvi per non mettere appunto tutti i miei dati in in mostra salto questa parte del video una volta inseriti i vostri dati dovrete andare a selezionare il software di interesse in questo caso il software che ci interessa è questo qui WURT technical software 2 spuntiamo questi inseriamo i dati e ci rivediamo fra poco ecco come potete vedere compare la scritta grazie per il tuo messaggio è stato inviato quindi non vi scarica in automatico il software ma dovete andare sulla vostra mail e vi chiede appunto di scaricare il software vedete dice ti permette di scaricare se il tuo client di posta non ti permette di cliccare sul link sopra copia l'indirizzo sottostante incollalo nel browser quindi noi andiamo a cliccare vediamo se inizia il download del software in questo caso possiamo vedere che il download non è cominciato quindi ctrl c ctrl v invio e adesso invece come vedete è cominciato il download del software anche qui sospendo brevemente il video perché vedo che ci vogliono circa 8 9 minuti e ci rivediamo tra poco una volta il software sarà stato scaricato per l'installazione ecco come possiamo vedere il software è stato scaricato clicco proprio sull'icona e adesso comincerà con l'installazione programma sta per essere installato quindi diamo sì la versione all'inizio possiamo mettere english ma poi c'è anche la versione italiana vi farò vedere accettiamo installiamo quindi andiamo avanti insomma un'installazione normale ecco però mi fa piacere come sempre condividervi tutti i passaggi del software adesso se vedo che ci mette troppo magari mando avanti veloci per due durante il video appunto durante la registrazione nella post produzione ecco adesso ha finito come vedete ha creato anche l'icona qui sul desktop ci clicco due volte e lo apro vedete qui è già in italiano poi si possono comunque modificare le impostazioni di lingua sia la nazione sia la lingua ecco quello che vi volevo far vedere io per cui lo utilizzo è per esempio la carpenteria in legno e la connessione elemento principale trave principale trave secondaria no quindi andiamo per esempio a cliccare su questo primo esempio poi vi farò vedere magari in maniera più veloce che ci sono anche altri utilizzi che si possono fare di questo software che secondo me è molto utile e molto buono e anche molto intuitivo ecco diciamo che poi tira fuori anche una relazione di calcolo abbastanza esaustiva insomma non mi sono trovato molto molto bene ecco quindi diciamo che questa è la configurazione iniziale tenendo premuto il tasto sinistro del mouse vedete si sposta così tenendo premuta la rotellina premendola non succede niente facendo zoom con la rotellina quindi in avanti e indietro si sposta così tenendo premuto il tasto destro invece vedete che ruota nello spazio poi questa è la vista tridimensionale potete mettervi anche nella vista 2d cliccando in questa parte come vedete potete anche qui zoomare sia in pianta che di fianco no quindi ci sono ecco varie visualizzazioni ed è molto intuitivo per esempio se voi avete cominciamo da qui un sistema trave principale possiamo mettere per esempio lamellare omogeneo diabete d'uglasia o altro legno massiccio per esempio gl 24 28 30 32 h la larghezza della trave per esempio facciamo una 200 per 200 come vedete in questo caso si modifica questa qui no ecco andiamo anzi scusatemi questa qui che la trave principale infatti si legge anche 200 200 e vediamo tipo di vincolo ritegno torsionale o ritegno torsionale non rigido quindi vedete che è cambiata la lunghezza in questo caso possiamo vedere cambiata la lunghezza ha cambiato anche qui qui praticamente potete vedere che la verifica sarà soddisfatta per un certo tipo di vite in questo caso invece ritegno torsionale non rigido dice il dispositivo di fissaggio è troppo corto montaggio con vincolo torsionale non rigido della trave possibile solo con viti inclinate singole avvitate dalla trave secondaria quindi in questo caso poi spippolate un pochino come ho fatto anche io per imparare insomma e trovate la giusta soluzione andiamo a vedere la trave secondaria per esempio mettiamo che noi si voglia avere una trave 160 per 160 come vedete qui cambiano i valori per esempio mettiamo 100 vedete si riducono i valori si riducono anche appunto i numeri quindi è molto intuitivo sotto questo punto di vista a questo punto noi per esempio vogliamo anche qui un legno lamellare omogeneo di un altro legno massiccio semplice l24h e qui possiamo mettere varie cose per esempio connessione ribassata connessione di bordo installazione trave secondaria in questo caso vedete possiamo modificare l'angolo che può essere per esempio di 45 eccolo vediamo dall'alto oppure all'estradosso per esempio facciamo un angolo di 16 gradi ok qui possiamo vederlo è stato modificato ora non sono sicuro che si possa fare contemporaneamente in tutti e due i versi però su questo poi magari potete approfondirlo a questo punto mettiamo carichi agenti vedete qui ci sono gz i gamma g qz la durata del carico il gamma q la classe di servizio che potete andare a modificare il valore di progetto appunto che vi siate già trovati per esempio qui nell'unione il vz oppure il valore caratteristico quello che poi gli volete appunto assegnare andiamo sui mezzi di collegamento e come mezzi di collegamento vedete in questo caso ci mette delle viti a testa piana svasata oppure delle viti a testa cilindrica per esempio noi andiamo a vedere qui vogliamo tutto no magari vogliamo solo fis 6 ecco con i fis 6 vedete che ci sono tutti questi tipi di viti che soddisfano le verifiche con i valori che abbiamo messo quindi ci sono di lunghezza 140 4 per esempio clicchiamo su questo vedete sono 4 viti sono fis 6 testa cilindrica lunghe 140 se noi vogliamo per esempio 160 sono 3 viti se noi vogliamo 180 o 200 sono 2 viti chiaramente qui c'è tipo l'utilizzo vedete il 92 78 per cento eccetera a questo punto nella progettazione cliccate su calcola tutti i connettori per esempio vogliamo un'unione questa qui e facciamo la stampa appunto del progetto possiamo farla come avete visto compatta personalizzata o altri tipi di stampa completa mi pare in questo caso il programma ci tira fuori una relazione di calcolo che possiamo poi andare anche a validare no perché chiaramente quando si utilizzano questi programmi il consiglio che vi do io è quello sempre di validarlo cioè vedere quello che ha fatto non prendere tutti i valori per buono perché qui appunto ci sono dei numeri da dove sono presi da dove non sono presi qui mi pare utilizzi le eta vedete in questo tipo di relazione non ci sono i calcoli magari nella relazione dettagliata ci saranno più calcoli e anche tutte le verifiche necessarie quindi come potete vedere ho cliccato semplicemente su dettagliata ed ha cominciato a fare l'anteprima di stampa della relazione di calcolo quindi in questo caso l'utilizzo vedete di questo software permette poi di andare a tirare fuori sia le verifiche sia i disegni anche che ci sono eccole qua le verifiche come possiamo vedere e anche dei disegni 3d che non sono niente male ecco qui si capisce che questa è una trave 160 160 200 200 c'è un angolo di 90 gradi insomma ci sono tre viti e poi c'è tutto quello che appunto serve per la relazione di calcolo in questo caso abbiamo visto appunto l'utilizzo del software per questo tipo di connessione ma per esempio come potete vedere c'è la progettazione di ancoraggi che noi possiamo andare ad esempio a vedere con cui possiamo andare a progettare appunto i nostri progetti ovviamente sempre facendo attenzione a tutto quello che è la validazione ecco anche qui tasso sinistro vedete si sposta tasso destro ruota tutto e con il tasso centrale possiamo zoomare avanti e indietro quindi in questo caso anche qui vedete ci sono un sacco di cose a cui ci possiamo per esempio ancorare c'è la muratura c'è il calcestruzzo armato vedete ci sono tante tipologie di ancoranti tante tipologie di anche connessioni che possono essere fatte quindi io ve lo consiglio insomma poi fatemi sapere anche se lo utilizzate se lo avete utilizzato e vi è piaciuto in un commento altrimenti direi che per questo video è tutto ci rivediamo la prossima volta se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace iscrivervi al canale e ci vediamo ciao a tutti